Grazie 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 a tutti. 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 Cappelletti, stavolta deve tuffarsi, grande chance per il Pomigliano grazie al lavoro in fase di recupero della 33enne giocatrice del Guatemala, Anna Luzia Martínez Maldonado con Sonzana Samp, 4 gol 2 centri invece questa stagione con l'ex giocatrice di Napoli e Madrid ha iniziato a giocare con Sporting de Guelva Fusini dribbling, la porta sul destro c'è una palla centrale per Anna Luzia Martínez, l'ultimo suggerimento chiusura da parte di Santoro con le mani Fusini cerca un pizzico di profondità ma la che rimbalza ancora la numero 3 la riprende, combatte poi anche il Parma per recuperare il possesso si prende con il Parma che deve risalire tutto il campo Erum, Giovanna Mai e Cox la difesa 3 che poi diventa 5 ovviamente per le giallo-blu provano a portare su di qualche metro il pallone lancio in profondità Fusini intercetta bene poi combatte Benoit recupera palla il Parma con il lavoro di Farelli e poi non riesce a dare continuità a Ferrario spara in fallo laterale è messa per Santoro Santoro prova ad andare via accelerazione chiusura da parte di Fusini che non lascia passare va a prendere posizione anche Paloma Lazaro dentro l'area di rigore Erum insiste di là di nuovo Santoro nuove anche Corbin però non può essere servita la rinnessa però è sempre giallo-blu Palma resta lì palla verso Corbin lavora di sponda non riesce poi a rendere gestibile quel pallone Farelli può ripartire Tati fermata il rimpallo però favorisce comunque il Pomegliano chiusura da parte di Giovanna Maia ripartenza possibile guidata da Paloma Lazaro palla nello spazio per Corbin nella posizione regolare al centro Paloma Corbin prova a cercarla chiusura determinante da parte di Farelli sta prendendo possesso però della metà campo del Pomegliano squadra di Panico avanzano anche i difensori sale Erum Santoro morbido sul secondo palo un pallone comodo che Setinia riesce a bloccare ha provato a inserirsi anche Benoit non complicato l'intervento di Setinia giocatrice 22enne forse 2000 Serba seconda stagione per lei al Pomegliano palla in profondità si lascia anticipare stavolta Cox ci sono però ma gli avversari vicine lancia in profondità verso Corbin troppo forte Setinia può bloccare con calma Pomegliano che non ha trovato il gol nelle ultime quattro sfide più recenti tante volte quanto nel precedente 15 Pana che invece nell'ultimo turno ha fatto sudare come vi dicevo la Juventus magari ha finito 2-1 con il gol di Cambiaghi all'ottantesimo che sembrava poter riaprire tutto se parliamo ovviamente di tanto tempo fa perché il campionato si è fermato l'ultima giornata il 26 febbraio dopo di che c'è stata in mezzo la Coppa Italia con le semifinali molto belle tutte e due e adesso il campionato che ripende con la nuova fase con di fatto una serie A femminile spaccata in due con tanti scontri diretti che si giocheranno da qui alla fine una formula che prospetta tanto spettacolo tra le prime 5 della graduatoria e le ultime 5 della graduatoria chiaramente una pull scudetto e una pull salvezza questo chiaramente anche per rendere il campionato più equilibrato e spettacolare visto il divario è sembrato evidente tra le prime squadre e quelle che compongono diciamo la parte bassa tendenzialmente della classifica in questa parte del tabellone ci sono Sassuolo Parma Como e Samp se la giocheranno Sassuolo guida questa mini classifica con 20 punti poi ci sono Pomigliano e Parma con 14 e 13 Como 11 e Samp 10 prova di stendersi il Pomigliano con Alessia Martinez che viene sfidata punta fa la scelta giusta poi crossa ribattuto rimessa laterale Anna Lucia Martinez prova a destreggiarsi poi conclusione su cui Capelletti deve avventarsi secondo intervento del portiere del Parma risposto presente una bella girata ma al limite dell'area di rigore provata da Di Giammarino stimolato Capelletti all'intervento cercato di concludere subito per evitare pressione e togliere il tempo anche a Capelletti che invece con un guizzo se l'è cavata 10 minuti 0-0 calcio d'angolo per il Pomigliano anche chiaramente i blocchi dentro l'area di rigore che si vanno a formare su po' di pressione proprio su Capelletti dentro l'area di rigore Tati Gallazzi arrivata da dietro anche Golob sfruttare i suoi centimetri Ferrari è pronta a battere prima però bisogna chiarire tutto quanto dentro l'area di rigore con Apicella stava provando a liberarsi della marcatura corner per il Pomigliano zona centrale ha provato a colpire di Gianmarino possibilità di ripartenza allora per il Parma la guida Paloma Lazaro parte come un treno a destra a Santoro Paloma ci mette troppo però per capire il da farsi Pomigliano questa palla se la va giustamente a recuperare Fusini indietro Battelani ricomincia dal suo portiere scienza che poteva sfruttare sicuramente in maniera diversa però il Pomigliano e di conseguenza anche il Parma in ripartenza qui Paloma ci ha messo troppo determinante l'intervento di Battelani adesso è rimasta per terra preso un colpo nel contrasto precedente la giocatrice che aveva iniziato come trequartista comunque a ridosso la prima punta sta giocando come riferimento più avanzato giocatrice giovane ancora parliamo la classe 2002 a vent'anni una ragazza di Imola ha fatto due gol in questo campionato segnato con il Como il 14 gennaio e con la Samp il 3 dicembre già esperienze in Serie A con Samp e Sassuolo mentre è arrivata chiara indicazione da parte di Panico nel ridare il pallone al Pomigliano e anche sulla panchina avversaria è stato molto apprezzato questo gesto Setinia invitata a venire su con il pallone poi sceglie di Gianmarino si avventa sul pallone Paloma-Lasaro vince il duello con Fusini parte il cross c'è Corbin sul secondo palo ma c'è anche la presa sicura di Setinia che chiama il pallone lo fa suo abbiamo visto in questa circostanza la superiorità fisica di Paloma-Lasaro giocatrice di 29 anni spagnola tanta esperienza in Serie A è stato con la Pink Barry poi una sola stagione con la Maglia della Fiorentina 3 su cui si è dimostrata importante con la Roma mentre qui occhio all'intervento di Fusini proprio su Paloma-Lasaro sul pallone dicevo della giocatrice spagnola 10 gol la scorsa stagione con la Maglia giallorossa è quota 2 quest'anno sono arrivati entrambe queste reti con la Sampdoria in casa scorso 12 febbraio trovato poco spazio nella prima parte di stagione con la Roma 9 presenze 5 al primo minuto appena 436 minuti giocati di conseguenza preferito cambiare aria ed essere un punto di riferimento ovviamente importante una squadra come il Parma Santoro prova palla incrociata Fusini si impegna per evitare il calcio d'angolo e c'è riuscita pronta ad andare Santoro in profondità palla prolungata sul secondo palo dove arriva a colpire con buona scelta di tempo Bardin è riuscita però ad inquadrare lo specchio della porta Zetinia si è aperta Battelani pallone era destinato a lei ma è capito tutto con anticipo Affarelli attacco di Gianmarino Battelani si butta in avanti riesce a mettere il corpo in fronte all'avversario di conseguenza calcio di punizione Colob coinvolge coinvolge setinia ancio lungo Tati uno contro uno si è vista poco fin qui giocatrice brasiliana viene tutta per terra segnalazione anche dall'assistente calcio di punizione dunque per il pomigliano una bella sgasata da parte di Tati una giocatrice che deve puntare deve avere anche il coraggio di farlo per mettere in difficoltà il Parma da quella parte si riformano le coppie dentro l'area di rigore si prepara a dare indicazioni soprattutto a parare Alessia Capelletti sono sei le maglie del pomigliano dentro l'area di rigore fischia l'arbitro parte il cross lungo sul secondo palo può dare un po' di sprint il Parma un'eventuale ripartenza sarebbe però un lancio in profondità che arriva adesso inglobato in qualche modo da Paloma Lazaro che dà respiro all'azione arriva Marciao si propone anche Bourdine ma la nuova è ancora lenta di nuovo però numero 4 chiusa poi tocca all'indietro gestire sotto pressione questo pallone il pomigliano con Rizza ottene il massimo rinviato dal fondo per Setinia un match dove si affrontano una squadra con la più alta e la più bassa percentuale di tiri nello specchio della regular season di questo campionato primo in questa classifica il pomigliano con il 53% l'ultimo il Parma con il 41% Setinia non c'è profondità su un pericolo per il Parma Tati protegge si mette fronte alla porta il riferimento più avanzato adesso è Anna Lucia Martinez però non gli arriva Cox Santoro la vorrebbe questa palla che arriva aperta sulla corsa buona duello con Di Giammarino lo vince Erika Santoro parla nello spazio per Corbin che può anche pensare di calciare super intervento di Golob che poi allontana tiene in campo Martinez questa palla torna Santoro torna il Parma gestisce palla a numero 20 e poi torna indietro forse si poteva andare anche un'altra opzione palla riconquistata dal Parma Santoro ancora in profondità prova a muoversi Benoit portano via il pallone ma poi Di Giammarino spedisce in fallo laterale vorrebbe una deviazione il pomigliato una deviazione probabilmente arrivata ma quando il pallone era già uscito ancora Santoro con le mani finta di paloma Lazaro si butta dentro Corbin che però non riesce a domare questo pallone Settinia rimessa laterale spesso e volentieri cerca sempre quella parte di campo cerca ovviamente l'esterno un incontro Battelani ancora un rimpallo rimessa laterale Tati Gallazzi con calma il Parma può gestire fin qui un paio di tiri nello specchio della porta del pomigliano Parma invece non ne ha effettuato neanche uno ai punti come si direbbe nella box meriterebbe forse qualcosa in più nel pomigliano rispetto a un Parma che per carità qualche pericolo lo ha corso però a livello offensivo fin qui non ha prodotto tantissimo Ferrari Fusini di prima di Gianmarino va a cercare Martinez su spunto in velocità dalla centrale per Battelani che non se l'aspettava probabilmente in quella maniera lì non ha finito però il pomigliano Fusini effetto il cross che può diventare quasi un tiro Parma per poco non se lo fa da solo questo gol azione ancora viva Anna Luzia Martinez scarico soluzione intelligente cross che arriva troppo su Capelletti pericolo comunque dentro l'area di rigore del Parma poco fa rivediamo il cross con Capelletti che l'ha viva nettamente chiamata questa palla Giovanna Maia però non gliel'ha lasciata Corbin pallo Malasaro sterzo cambio di gioco Farelli dall'altra parte verso Corbin leggermente troppo arretrato Galazia la gaccia del pallone fa prima Giovanna Marciao poi Cox zona tiro calcia ribatte Ferrario Paloma Lazaro calcia anche lei verso la porta Settinia e attenta finalmente si vede anche il Parma comincia a spaventare il pomigliano pomigliano che sceglie di partire dal basso di Giammarino però sta dietro Farelli e Giammarino ha tutto il tempo per impostare va in profondità calcia male e Capelletti ringrazia ha avuto coraggio qui comunque il pomigliano nel mettere giù palla con Settinia ripartire dai difensori Palma che sarà un po' addormentato Giammarino poteva fare sicuramente meglio in quella circostanza Tati dentro da Battelani chiude Santoro fuori gioco di rientro grazie a tutti si parla molto al limite dell'area di rigore parte il cross Anna Lucia Martinez parla di andare via in uno contro uno con Santoro c'è Fusini a rimorchio servita può coordinarsi per il cross Palla si impenna Capelletti la chiama e la va a bloccare in sicurezza lancio in profondità Corbin in duello con Golov prova ad andare via l'americana ci riesce poi l'assist per Benoit a rimorchio anche Paloma Lazaro palla per Farelli di nuovo di là Santoro al cross zona secondo palo si era provata ad inserire Bartin di nuovo fra i piedi di Setinia come Friva Sassuolo il pomigliano ricomincia dal basso poi opta per il lancio lungo sembra particolarmente soddisfatto l'approccio delle sue ragazze Domenico Panico che peraltro è un ex chiaramente di questa partita visto che il pomigliano l'ha allenato fino a giugno del 2022 poi dal novembre del 2022 alla guida del Parma Anna Lucia Martinez dentro l'area di rigore arriva anche Gallazzi dall'altra parte a rimpallo non favorisce il pomigliano che comunque porta tante giocatrici dentro l'area di rigore il Parma sta rischiando anche perché sta abbassando un po' troppo e di conseguenza azione dopo azione passaggio dopo passaggio la sensazione che il pomigliano possa prendere fiducia di Gianmarino bella giocata lancia in avanti è partita Anna Lucia Martinez attenta Erum poi Santoro Farelli partita Corbin la prende Golob aspetta a defilarsi aspetta un rimorchio arriva adesso quello di Farelli c'è il recupero però da parte di Martinez palla persa un'altra volta al pomigliano però lo stesso fa il Parma tanti errori di Gianmarino aspetta la tiene altra palla sporcata poi fallo di Erum con Anna Lucia Martinez che tanto per cambiare aveva anticipato potrà via una buona punizione che consente al pomigliano di alzare il baricentro di dare un pochino più di profondità Battelana Golob questo calcio di punizione si cerca per l'appunto la profondità controllo di Gianmarino poi Battelani tocca mette un po' in difficoltà Gallazzi deve tornare indietro di qualche metro provo a insistere Rizza da quella parte malinteso tra giocatrici del pomigliano ripartenza possibile per il Parma Corbin uno contro uno da quella parte con Apicella Corbin prova a puntare arrivata anche Benoit va sul bancino effetto il cross verso Benoit Paloma Lazaro era in zona riuscita però ad agguantare quel pallone recupera Gallazzi Martinez all'indietro verso la numero 8 fa la persa adesso il Parma che può andare in pressione ha avuto una grossa chance la squadra giallo-blu Santoro grande dribbling va per la porta conclusione che esce centrale Setinia blocca cerca sempre l'esterno Setinia ma pallone fuori misura Santoro testa di Paloma Lazaro poi di Gianmarino allontana non ci sono però mai del Pomigliano in quella zona allora Erum può venire fuori palla corta per Santoro Anna Lucia Martinez Battelani rimontata da Bardin poi Cox Corbin resiste c'è Santoro torna di Gianmarino Santoro però già scaricato per Paloma Lazaro che può puntare in linea di rigore uno contro uno con Fusini Paloma cerca il secondo palo non c'è nessuno dall'altra parte Gallazzi manda in calcio ad angolo bella azione del Parma però batte Benoit dalla bandierina Erum Cox Lazaro Giovanna Maia dentro la gara di rigore parte il cross si tiglia non si fida della presa poi al volo Farelli sulla rete sbagliata la rete sbagliata 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 E' un po' non fuori il gioco Settini a lungo intervento forse in gamba tesa da parte di Farelli l'abito dice di lasciare giocare Gallazzi con difficoltà Giovanna Maia arriva la pressione da parte di Tati Marschau prova ad allontanare ancora Tati di testa Gallazzi ha spinto poco da quella parte il pomigliano ha preferito spesso scendere a sinistra privilegiando Fusini, privilegiando Anna Lucia Martinez Capelletti Corbin Anna Lucia Martinez prova a puntare finisce giù calcio di punizione è questa la chiave lo spunto è l'uno contro uno è lì che il pomigliano può far male e prendere le contromisure invece il Parma batte Battelani forte verso la porta la palla non si abbassa palla fuori altra rivenza laterale poco movimento adesso si propone Tati uno contro uno lavora Cox e lavora anche bene perché c'è rinvio dal fondo l'ha fatto passare l'avversaria sbaglia il Parma fase di impostazione di Gianmarino parte la cross lungo recupera Bardin Corbin contrasto in mezzo al campo con Farelli di Gianmarino palone gestito ancora dal Parma ancio profondo Santoro inserimento di Paloma Lazaro si rinnova il duello con Fusini all'area di rigore Paloma non riesce ad entrarci definitivamente arriva uno scarico arriva anche il cross di Herum si tigna chiama il pallone con grande sicurezza lo fa suo anche disturbato dalla pressione di Corbin Tati Ferrari di nuovo Tati suola pallancura morbida per Ferrari gioca bene il Pomigliano con Battelani dentro l'area Anna Lucia Martinez buona la Veronica è buono anche lo scarico Ferrari deve trovare un barco cade sul pallone lo stesso però sempre per il Pomigliano Martinez di nuovo Ferrari si mette fronte alla porta riesce a prolungare Gallazzi può essere zona tiro calcia verso la porta la valla rimbalza davanti a Cappelletti che blocca ma riuscita a dare la giusta forza in questo caso Valentina Gallazzi ragazza giovane 19 anni classe 2003 ex Inter e Roma pallone che viene restituito al Parma mette giù mette giù palla anche Cappelletti nove minuti più recupero eventuale alla fine del primo tempo tra Pomigliano e Parma 0-0 Corbin apertura di Benoit per Farelli parte il cross dice Paloma Lazaro prende un colpo resta per terra poi altra conclusione ribattuta c'è una giocatrice la Pomigliano che è ancora giù nel frattempo Tati combatte contro Santoro probabilmente alla fine commette fallo Erika Santoro provato a protestare Santoro vedo però ha segnato la punizione 26 anni per Tati arrivata dal Vittoria 4 gol il suo primo anno in serie femminile con il Pomigliano segna però dal 22 di ottobre proprio dalla gara di andata con il Parma 3-1 dal Pomigliano parte il cross dentro l'area di rigore Gallazzi fuori ancora da Battelani cross allontanato Pomigliano insiste poi Farelli il palone che gli sbatte praticamente addosso poi lo regala a Battelani Anna Lucia Martinez spunto sul destro rientra sul sinistro Battelani coinvolta anche Ferrario Fusini pensa al cross lo fa partire ancora basso Farelli sotto mette il corpo in maniera corretta appoggia Santoro e calcia forte sperando in una deviazione che però non è arrivata rimessa laterale allora per il Pomigliano arrivato un cartellino giallo la panchina del Parma Fusini Martinez Ferrari dentro arriva di Gianmarino forte Farelli si è immolata Cappelletti evita il calcio d'angolo all'intervento a livello difensivo a parte del Parma qui non tantissime emozioni Cox Marsha Vallunga la numero 5 Apicella chiude Ferrari poi smista lateralmente ancora Giovanna Marsha Ferrari prova a dare un pochino di profondità ha provato a toccare quanto bastava Battelani per togliere il tempo all'avversaria ma non c'è riuscita Santoro Farelli Santoro buono il dribbling saltate due avversari poi palla centrale Letta però senza troppi pericoli poi allontana il Pomigliano nella zona dove c'è solo Cappelletti vediamo chi riesce a prendersi questo finale di primo tempo intanto qui occhio a Paloma Lazaro che è sgusciata via uno contro uno di Paloma prova a cercare il secondo palo lì c'è Corbin anche Benoit può dare una mano c'è fuori gioco però si alza la bandierina il palone l'ha toccato Bardin Settinia Mattelani Cox in avanti ripartono l'altra volta Paloma Lazaro sempre in quella zona uno contro uno la sposta ma sul fondo porta a casa calcio d'angolo questa può essere una chiave invece per il Parma manca il pallone calcio d'angolo che batte Marciao sul primo palo fare lì poi al volo la conclusione altissima di Benoit si perde sul fondo giro palla del Pomigliano Settinia Palalunga per Di Giammarino Santoro Paloma Lazaro Corbin troppo forte po' di precisione da una parte e dall'altra Pallone uscito questa volta ha controllato male Fusini Tutto regolare Martinez punta parte Battelani Marciao intercetta bene poi Tati dribbling palla per Battelani c'è un contatto calcio di punizione per il Pomigliano perplessa Marciao viene anche ammonita calcio di punizione per il Pomigliano Battelani ma non solo sul punto di battuta c'è anche Anna Lucia Martinez barriera 4 per il Parma parte Battelani Capelletti e la travezza e poi sotto porta arriva il gol di Anna Lucia Martinez che si è fatta male ha segnato il gol dell'1-0 ma vengono invitati subito i soccorsi che il contrasto è stato duro dopo un pizzico di apprezzione il sorriso del Pomigliano e tutte le ragazze Anna Lucia Martinez ha messo dentro il pallone dell'1-0 anche se si è fatta molto male è andata proprio lei sulla respinta velocissima la numero 20 Capelletti ha fatto il possibile per evitare che quel pallone finisse dentro la porta ci ha pensato Martinez praticamente sull'ultima occasione del primo tempo Martinez che l'ultimo gol lo ha fatto qui contro l'Inter scorso 10 dicembre è il suo terzo centro in campionato adesso si rialza ovviamente dolorante ma immagino soddisfatta mentre Parma invece va a riposo sul risultato di 1-0 risultato che per quanto ho fatto vedere probabilmente è meritato per il Pomigliano che ha tirato più volte rispetto alla squadra giallo-blu rientra Anna Lucia Martinez anche se sarà veramente per pochi secondi e lo mentale può essere una batosta questa per il Parma che nel secondo tempo dovrà di conseguenza entrare in campo con l'idea di attaccare per recuperare questa partita intanto qui lancio lungo Corbin butta dentro subito il pareggio neanche il tempo di festeggiare e il Parma pareggia immediatamente sarà da valutare richiestato l'ultimo tocco anche Corbin va ad abbracciare le compagne una strana traiettoria tutto parte dalla verticalizzazione Paloma Lazaro risulta probabilmente è stata lei allora segnare da qui obiettivamente molto complicato definirlo che reazione da parte del Parma nell'immediato praticamente in un minuto abbiamo visto più di quello che abbiamo osservato in 43 1-1 dunque ha pareggiato subito il Parma con l'arbitro che ha lasciato giocare ancora evidentemente 30 secondi il Pomigliano ha fatto il grave errore di staccare la spina evidentemente troppo presto si va all'intervallo dunque ufficialmente sul risultato di 1-1 tra poco rivediamo i lights così che c'è su qualcosa ah ma perché non lo non non grazie non 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 bene abbiamo un pallone anche per noi ben 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 abbiamo non abbiamo ascaggiato un po' la la qua Grazie. 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 Di nuovo insieme con le squadre che rientrano in campo e ci sarà come vedete una novità perché non ce la fa Capelletti e dunque deve entrare. il secondo portiere Ciccioli. Il secondo portiere Ciccioli. Prima novità del secondo tempo. Gloria Ciccioli. Forse 2022 anni all'esordio in Serie A. Questa Serie A. Ex calciatrice dell'Empoli del San Marino Academy. Tutto pronto. Si riparte dunque dall'1 a 1 con cui si è chiuso all'improvviso il primo tempo. Con il gol di Martinez e il pareggio di Paloma Lazaro. Adesso vedremo con che attitudine si presenteranno le due squadre in questa seconda parte di gara. Un pomigliano che aveva trovato un gol che poteva essere importante e presentare un certo tipo di scenario. Scenario che poi è stato immediatamente cancellato. dal rete di Paloma Lazaro. Ultimi controlli per quanto riguarda il direttore di gara. Ancora qualche istante poi si potrà riprendere. Grazie. 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 Sembra tutto risolto. E allora si può ricominciare con il Francesco pronto a dare il pie al secondo tempo. si va prima possesso per il Parma immediatamente perso allora il pomigliano che può presentarsi dall'altra parte Battelani con l'esterno dentro Tati dribbling chiusa a Martinez Ciccioli subito protagonista blocca il pallone partito forte il pomigliano Rizza protegge il pallone termina fuori Tati Rizza Battelani centralmente non c'è fallo adesso si su Marciao lancio di punizione di Gammonita del primo tempo la giocatrice portoghese terzino del Parma 26 anni alla prima stagione in Italia Rizza non riesce a controllare questo pallone e allora Parma che usufruirà una rimessa laterale in zona d'attacco Paloma Paloma Lazaro prova il dribbling non passa Corbin Corbin Marciao al cross dentro l'area Sitinia si avventa sul pallone subisce fallo raccavata il pomigliano questo intervento del portiere di casa la pressione da parte di Farelli Martinez prova a farsi vedere dall'altra parte Tati tiene il pallone non c'è fallo ha visto bene l'arbitro Gallazzi non c'è fallo neanche in questo caso sarebbe posizionato direttore di gara Paloma Lazaro rientra 3 addosso Marciao al cross che è anche interessante Sitinia chiama ancora il pallone lo fa suo era di rigore sempre non particolarmente affollata da parte delle giocatrici del Parma altra giocata qui Anna Lucia Martinez nettamente la migliore del pomigliano forse addirittura la migliore in campo Gallazzi per Rizza di nuovo per la numero 8 cross di Ferrario non esce Ciccioli palla allontanata la rincorre di Gianmarino Fusini al cross e diventa un tiro bloccato facile al nuovo portiere del Parma Gallazzi Rizza Battelani protegge in contrasto con Cox quindi Paloma Lazaro Pallone termina fuori la dimessa sarà per il Parma Prova ad alzarsi il pomigliano Giovanna Maia allontana allontana Grazie a tutti. Fusini. Tati. 1 e 2. Apertura per Martinez. Può puntare. Uno contro uno con Santoro. Non passa, stavolta molto brava. Enrico Santoro a fermarla. Non ha finito però il pomigliano. Prova a insistere Fusini. Martinez. Di nuovo il duello con Santoro che non la molla. Apicella. Alude anche la pressione di Paloma-Lasaro. Poi davanti. Conclusione alta sopra la traversa da parte di Gianmarino. Costruzione però interessante da parte del pomigliano che forse qui ha avuto troppa fretta all'andare a concludere. Cambio in arrivo. fuori fare lì. Dentro Arrigoni per il Parma. Fuori anche Benoit. Cambio a due centrocampisti dunque. Panico. Dentro Cambiaghi. Cambiaghi. giocatrice offensiva. E la Cambiaghi. Prima stagione per lei al Parma. Arrivata dal Sassuolo. Trovato solo due gol. Paloma-Lasaro. Prova a calciare. troppo debole. E adesso comunque c'è un attacco interessante proprio con Paloma-Lasaro e anche Michela Cambiaghi. Da capire. Ci sarà un cambio di modulo eventualmente per il Parma. Oppure se resterà sempre disposto alla stessa maniera. Intanto il pomigliano prova ad andare invece in contropiede con Tati. Bella giocata. Contro dribbling. e poi ci mette troppo per prendere una decisione definitiva. Viene mangiata. Parte Cambiaghi. La palera destinata a lei. Rizza chiude. Tati. Prestata da Bardin. Commette fallo. Troppo in ruenta. Calcio di punizione. Per Giorgia Arrigoni invece giovanissima. Anche lei 18 anni classe 2004. Presenza numero 13 in campionato. Dopo le 8 con un gol della scorsa stagione. Con la maglia dell'Ellas Verona. Golle che ha realizzato contro la Roma. Una partita che Verona ovviamente avrebbero dimenticare. visto che finì 7 a 1. Quella sfida. Calcio di punizione per il pomigliano. Da una situazione del genere. È nato il gol del momentaneo 1 a 0. per la squadra di casa. Batte Battelani. Va a cercare la porta. Anche in questo caso però. La palla non si abbassa a sufficienza. Tre punizioni battute dal pomigliano. Due alte e una dentro i pali. Che poi ha portato al gol. Forza che sicuramente non manca. All'inquadrata Veronica Battelani. Entrata anche Arcangeli. Sul terreno di gioco. Giocatrice molto tecnica. E da seguire con interesse. arrivata in presso dalla Juventus. Anche lei giovane. 19 anni. Gallazzi. Recupera alto il pomigliano. Parte il cross. Al volo Ciccioli. Poi di Gianmarino. Muro. Contrasso duro. Calcio di punizione. Intervento di Arrigoni. Un po' di modifiche. Effettivamente Panico le ha fatte. Ha toccato poco invece. Fin qui il pomigliano. Ha già effettuato quattro cambi. una squadra ospite. Fuori Benua, Farelli e Corbin. Oltre a Cappelletti. Dentro Ciccioli, Arcangeli, Arrigoni e Cambiaghi. Resta dunque solo un cambio. Tutto il resto della partita. Settinia. Rimessa laterale. Si gioca. Di Gianmarino. centralmente viene incontro Battelani a lontana Santoro. E poi addirittura la maglia che si allunga di Arrigoni lasciato giocare forse un po' troppo direttore di gara che poi comunque al momento opportuno fisca. Paloma Lazaro. Cross che può diventare un tiro da parte di Arrigoni. Palla fuori. Tati. Protezione del pallone Marciao. Paloma Lazaro. Santoro. Dribbling. Altro dribling. Sempre lei. Guarda la porta. Prova a calciare. Fuori misura. Anciolungo intercettato. Santoro. Ancora Arrigoni. Santoro. Santoro. Battelani. Tocca quanto basta. Netto vantaggio però. C'è Marciao. Cox. Ciccioli. Paloma Lazaro. Altro Gallazzi. Resce a girarsi. Rizza. Settinia. Colpo di testa da parte di Bardin. Subentra lei. Poi Rizza ancora. Protegge. Rimessa laterale. Testa di Marciao. Poi Paloma Lazaro. Apre tutto. giocata però anche prevedibile. Allora Battelani con la punta. Riesce a prolungare. Tati è venuto incontro. Giropallo stoppato. Rimessa laterale. a Picella. Prova a lottare Arcangeli. Prende anche un colpo. Resta giù. Eccolo il volto colpito involontariamente alla numero due. Tutto chiarito. Con l'arbitro. Un po' da discutere insomma. Colpo ricevuto. Ancora comprensibilmente estordita Arcangeli che si rialza. Calcio di punizione Pomigliano. Ferrario ha ripassato centralmente troppo tempo per gestire questa palla per il Pomigliano. Può approfittarne allora il Palma per andare in contropiede con Paloma Lazaro. L'apertura per Cambiaghi. Uno contro uno. Cambiaghi. Dribbling. Cambiaghi. Ha visto la porta. Cambiaghi forte sul muro. Che occasione per il Parma. Cambiaghi forse ha aspettato troppo doveva calciare prima. Cox. Settinia. Anticipata Gallazzi. è andata a riprendere la numero otto. Palla interessante per l'Analusia Martinez che ha fatto fuori la grande Giovanna Maia. Martinez forte. Ciccioli. Para. Ancora Martinez. Ritornata Giovanna Maia. Calcio d'angolo per il Pomigliano. Qualità intelligenza. Intelligenza tecnica. La sua Martina si riguarda lunga la giocatrice più completa del Pomigliano. Poi però qui calciato centralmente. Bravissima a rispondere presente Ciccioli a salvare il Parma. Calcio d'angolo Pomigliano pallone nel cuore dell'area di rigore. E arriva il gol di Tati. Bellissimo al volo all'angolino e il Pomigliano torna avanti 2-1. Che la danza e l'inchino da parte della giocatrice brasiliana a cui evidentemente il Parma stimola è parecchio. Ha fatto 4 gol in campionato fin qui e l'ultimo è realizzato proprio al Parma. Non segniamo dal 22 di ottobre la numero 10. Grande impatto. E 2-1. avanti il Pomigliano dunque 2-1. Risultato che sarebbe importante chiaramente a livello di classifica che permetterebbe di salire a quota 17 in classifica portarsi a meno 3 dal Sassuolo. Adesso però occhio alla reazione del Parma che le sue occasioni comunque le aveva avute con il cartelino giallo fallo al limite dell'area di rigore giallo proprio per Tati che intervenuta in ritardo con il numero 5 in campionato per il numero 10 atterrata Paloma Lazaro Pomigliano deve fare attenzione chiaramente a non replicare l'errore fatto in chiusura del primo tempo quando fu ripreso immediatamente proprio prima dell'intervallo dopo neanche un minuto dalla realizzazione del primo gol rivediamo la parte finale del contatto tra Tati e Paloma Lazaro giustamente accetta la decisione calcio di punizione da sfruttare per il Parma da quella posizione può andare anche con dei pensieri verso la porta infatti Marciao va a cercarla scheggia la traversa ad un passo il Parma dal 2-2 scendo solo vicino però per il momento Paloma Lazaro non controlla tocco di mano secondo l'arbitro e quindi si riprende con il calcio di punizione per nel pomigliano prima però c'è bisogno di un cambio fuori Battelani al suo posto entra Rabot chiaramente qui forse c'è anche un discorso tattico che va a mutare Iris Rabot 22enne francese ragazza di Lione mai partita al primo minuto questo campionato collezionato appena 109 minuti spalmati in 11 prestazioni 22enne francese Tati in avanti spinta da Giovanna Maia che usa le mani e prende anche l'ammunizione duello peraltro fra con nazionali con Tati e adesso la punizione ce l'ha il pomigliano non c'è più Battelani ma c'è Ferrario pronta a battere salita anche Golob dalla difesa oltre che Apicella parte Ferrario verso il cuore dell'area di rigore palla messa fuori Golob prova a riproporla dentro si sta per coordinare di Gianmarino Ferrario prova lui ad imbucare tutto chiuso Gallazzi zona tiro serve l'assist sul secondo pallo idea non era male poi Cox palla ancora viva Golob non può intervenire Ciccioli però le mani e le sfrutta prova a ripartire il Parma adesso inevitabilmente deve fare qualcosina in più a livello di produzione offensiva se vuole provare a riprendere per la seconda volta in questo pomeriggio il pomigliano non è riuscita la doppia impresa del segnare immediatamente all'azione successiva come è avvenuto in chiusura di primo tempo preso la traversa in compenso Marschau stop di petto proprio della numero 5 può trasformare l'azione difensiva in offensiva troppa fretta Cambiaghi prova a dare pressione per poco non riesce a riprendersi il pallone di Gianmarino anche lei sbaglia chiusa anche Bardin tanti errori a ritmo più alto decisamente in questo secondo tempo Anna Lucia Martinez nello spazio per Ferrario che si defila contatto calcio di rigore fallo di Erum e cartellino giallo calcio di rigore per il pomigliano dettamente in ritardo occasione grande per il pomigliano per andare sul 3 a 1 a 20 minuti dalla fine della partita prima però chiaramente bisogna valutare le condizioni di Ferrario se si è in grado di proseguire o meno la partita questo è un intervento di Erum su cui onestamente ci sono davvero pochi pochi dubbi è Tati che si prende la responsabilità trovare il gol numero 6 del suo campionato e la seconda eventuale doppietta dopo quella realizzata con il Como che risale addirittura al 25 di settembre 1 contro 1 Tati contro Ciccioli parte Tati rigore impeccabile seconda doppietta in campionato per lei 3 a 1 per il pomigliano che va sul più 2 altro balletto e anche un po' di pensieri che vanno via cambio per il Parma fuori Marciao dentro Martinovic cambio inevitabilmente offensivo per la squadra di Panico che adesso deve provare un'impresa che sembra davvero disperata utilizza anche il quinto cambio il Parma con l'ingresso di Melania Martinovic 6 gol per lei in questo campionato 29enne ex-Samp Fiorentina Atalanta e Sassuolo ultimo gol realizzato contro la Roma il 22 di gennaio calcio di punizione per il Parma deve provare a riaprirla in qualche modo palla verso Settini a rimbalza davanti alla partita del pomigliano che la fa sua e ovviamente si prende tutti i secondi del caso pallone uscito rimessa laterale Arrigoni Cox Prova a farsi vedere Giovanna Maia torna indietro Parma in confusione Parma in confusione Cambiaghi Paloma Lazaro Santoro Arcangeli Santoro ancora Arcangeli dopo il lavoro di Martinovic non c'è fallo caduta da sola Arcangeli che forse si è fatta anche mal alla caviglia nel frattempo va in contropiede il pomigliano con Anna Lucia Martinez che deve subire il ritorno di Arrigoni ha pettinato un po' troppo il pallone però l'ho attenuto di Gianmarino zona tiro calcia Ticcioli blocca senza particolari patemi Paloma Lazaro verso Cambiaghi il giro a vuoto costruisce il pomigliano in questo finale è chiaro che inevitabilmente il Parma adesso si riverserà in avanti si apriranno degli spazi da occupare Ferrari profondo verso Tati esce Ciccioli rimpallo alla fine il Parma se la cava mette giù Gallazzi so perché non era per nulla facile perché il pallone scendeva a campanile Arcangeli ancora una volta rischia perde il duello e allora si può andare in uno contro uno di Rabot poi Gallazzi zonatilo per Ferrario che prova a calciare Murata Arcangeli da terra stavolta bene riparte il Parma apertura esterna a cercare Martinovic che deve impegnarsi per tenerla in campo ma era molto difficile rimesso laterale per il pomigliano no Polone che termina in out rimessa laterale Erum alla caccia del pallone Anna Lucia Martinez Cox all'indietro per Erum che deve gestirla bene se la cava Paloma Lasero di testa poi lì vicino Martinovic controlla Paloma e poi allarga altra incomprensione questa però Martinez non può prenderla Santoro sprinta gioco fermo sono due palloni in campo cambi anche per il Pomigliano con Corelli che sta per entrare oltre a Passeri fuori Fusini dentro la numero 5 Angela Passeri 18 anni giocatrice proprietà dell'Inter arrivata in prestito ha giocato tanto 18 presenze 18 dal primo minuto in questa stagione e dentro anche Corelli al posto di Tati che giustamente viene abbracciata sta decidendo lei con una doppietta sua seconda in campionato dentro Alice Corelli ex giocatrice della Roma arrivata anche lei in prestito 19 anni classe 2003 ragazza nata proprio nella capitale 10 minuti alla fine della partita Pomigliano che poi tornerà in campo il 2 aprile contro il Sassuolo quindi Como Sampdori e Parma questi prossimi impegni per quanto riguarda scuola di casa Parma invece che affronterà il Sassuolo quindi il Como la Samp e di nuovo il Pomigliano pallonare di rigore questo rush finale per guadagnare posizioni in classifica questi potrebbero essere davvero 3 punti pesanti per la scuola di casa consentirebbero di staccare la zona rossa della classifica in questo momento la Samp è ultima con 10 punti poi c'è il Como con 11 Parma con 13 e il Pomigliano che rischia di andare a 17 a meno 3 dal Sassuolo è la prima squadra di questa mini classifica Bardin recupera palla prova a crossare pallonare di rigore controllata da Martinovic contatto non c'è calcio di rigore però stavolta secondo l'arbitro episodio dubbio e probabilmente da rivedere fuori gioco c'è però da capire quella che è stata l'entità del contatto poco fa mentre il Pomigliano allontana un filo il pallone un po' di nervosismo anzi non fischiato fuori gioco ma calcio di punizione per il Parma perché dopo aver lanciato il pallone verso l'area evidentemente c'è stata una carica irregolare dunque non fuori gioco ma punizione per il Parma evidentemente da sfruttare quando le lancette corrono abbastanza veloci per la squadra giallo-blu arrivata anche Cox dentro l'area di rigore oltre a Cambiaghi palla che viaggia verso Settinia che viene caricata calcio di punizione stavolta sì per il Pomigliano si lamenta Cambiaghi che è entrata in contatto con il portiere del Pomigliano si lamenta anche Erum che fa valere i gradi di capitano questa è la punizione battuta da Arcangeli con lo scontro tra Settinia e Cambiaghi fa capire che recupererà tutto l'arbitro dunque un recupero che sarà comunque abbastanza lungo il primo piano per che la Cambiaghi scontro che è stato probabilmente violento anche se Settinia sembra tranquillamente in grado di proseguire ma non so cosa serva mettere dell'acqua sullo scarpino è anche quello che sta chiedendo l'arbitro un pochino più di celerità diciamo è provato a rubare qualche secondo il portiere del Pomigliano Santoro verso Cambiaghi arrivata anche Arcangeli dentro l'area di rigore non fortunata Cambiaghi rinvio per Settinia è praticamente arrivato il momento di loro mai più per il Pomigliano e anche per il Parma Santoro Paloma Lazaro Cox guarda dentro Rossi in arrivo praticamente rimandato al mittente Settinia chiusura da parte di Daniel Cox Ferrari lancia in profondità troppo lunga per Anna Lucia Martinez prova a recuperare Giovanna Maia che si prende qualche rischio il pallone termina fuori rimesso laterale per il Parma altra pala lanciata nel nulla affretta chiaramente Ciccioli fin qui decide la doppietta di Tati un'etro su seconda in stagione soltanto Ciau Inga ne ha fatto di più chiusura di Passeri poi altro pallone sparato lontano fase confusa adesso chiaramente della partita il Parma sta provando a forzare le giocate si aprono degli spazi chiaramente per il Pomigliano che deve essere bravo a occupare Arrigoni Martinovic prova a chiudere uno scambio missione fallita e allora riparte su quella fascia il Pomigliano il campo però è finito la rimessa laterale torna giallo-blu tutto fermo visto un'altra irregolarità il direttore di gara calcio di punizione per il Parma che può portare un altro assedio alla porta di Setinia quando manca un minuto e mezzo più eventuale recupero gol da rimontare sono due gara aperta Anna Lucia Martina sta al 40 siesimo nel primo tempo pareggiata praticamente un minuto dopo da Paloma Lazaro e poi la doppietta di Tati nel secondo tempo parte il cross dentro l'area di rigore c'è un contatto sta giù a Picella faccio di punizione per il Pomigliano scappato pericolo dunque per il Pomigliano che va a rilancio in profondità testa di Santoro poi contatto con Gallazzi che va giù punizione importante per il Pomigliano che congela il pallone poi con la segnalazione del recupero Arcangeli scuscia via l'attaccata deve scaricare non c'è fallo su di lei un'altra volta per terra Arcangeli Giovanna Maio si butta in avanti arrivano adesso i sei minuti di recupero preventivabile un recupero così lungo tante interruzioni in questo secondo tempo Martinez ha recuperato il pallone con la complicità di Corelli che va per la porta e c'entra l'incrocio ad un passo dal 4 a 1 il Pomigliano gran conclusione da parte di Corelli e qui Ciccioli non ci sarebbe arrivata ha comunque coperto il più porta possibile fuori Anna Lucia Martinez probabilmente tra le migliori dentro Novellino Deborah Novellino 25 anni al primo anno di Pomigliano ex Sampdoria e Pink Bari segnato un solo gollo segnato contro il Milan però il 29 ottobre scorso Gallazzi palla incrociata con Santoro che prova a tenere proprio su Novellino appena entrata è fresca può gestire il pallone prova a crossare sul primo palo c'è nessuno pronto ad approfittarne la rimessa sarà comunque per il Pomigliano guadagna qualche metro semplicemente con la rimessa Novellino Corelli rimesso a laterale che non si batterà neanche il calcio d'angolo come chiedeva la panchina del Pumigliano il primo tocco è stato di Corelli spinge Arrigoni abbastanza indisturbata scambio con Martinovic è rientrato però il Pumigliano Bardin Erum lungo sponda di Cambiaghi per Martinovic che prova l'avvitamento poi chiude Galazzi la caccia del pallone Arcangeli parte il cross basso la sparata in avanti con Erum che lascia l'incarico a Ciccioli ultimi 120 secondi di partita Apicella alza il pallone fa la scelta giusta Novellino viene dentro il campo Pumigliano allontana Corelli zona tiro calcia strepitoso gol che vale il 4-1 di Corelli gol più bello arriva nel finale a parte la numero 7 che ci aveva provato poco fa aveva preso l'incrocio l'ha piazzata sotto il set e non poteva fare nulla Ciccioli 4-1 partita chiusa bellissimo Corelli ha beccato l'ammunizione perché secondo l'abbio si è tolta la maglia in realtà l'ha solo alzata molto fiscale qui il direttore di gara e c'è un'espulsione per Corelli incredibile ha fatto gol e deve abbandonare il campo regola veramente particolare comunque sono anni che deve essere rivista Pomigliano che chiude in 10 dopo che Corelli che era stata munita all'ottantatreesimo si è alzata la maglia dopo il gol gridata evidentemente con gioia secondo cartellino è rosso Pomigliano che chiude in 10 gioca fino a 96-30 ha fatto capire l'arbitro Paloma Lazaro con Setinia che respinge il pallone Martinovic cerca una palla di Morchio per Galazzi è salterale per il Parma si gioca ancora Bardin palla a destra cross dentro arriva Santoro Giovanna Maia direttamente su Setinia lascia ancora giocare il direttore di gara Setinia mette giù palla Ambiaghi va a pressare siamo già oltre i 6 di recupero dove siamo a 97-20 finisce qui finisce 4-1 per il Pomigliano sul Parma con il gol di Analusia Martinez con il pareggio di Paloma Lazaro con la doppietta di Tati il gol bellissimo nel finale di Corelli un finale con un leggero amaro in bocca per il Pomigliano per l'espulsione proprio della numero 7 che era già stata ammonita nel tentativo di esultare si è tolta la maglia o meglio se l'è alzata e questo è bastato per far tirare fuori all'arbitro del secondo cartellino salterà la prossima partita Corelli dove ha realizzato un gol molto molto bello vince dunque il Pomigliano 4-1 che fa festa l'MVP è Tati che ha realizzato la seconda doppietta stagionale in Serie A dopo quella realizzata con il Com lo scorso settembre come dicevo solo Chawinga con 4 ne conta di più nel torneo in corso Parma che resta 13 Pomigliano che sale a quota 17 tra poco rivediamo Yeelites Grazie Grazie. 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 Ripresa che si apre con una novità e riguarda il Parma dove non c'è Cappelletti tra i pali c'è Ciccioli che approccia bene alla sfida e sarà comunque una discreta protagonista. Il fallo su Settigna fischiato dal direttore di gara. Palle native che diventano pericolose in questo tipo di scenario. E arriva il gol di Tati che non segnava dalla gara di andata con il Pomigliano disputata a Parma. Balletto e Pomigliano che torna in vantaggio 2 a 1. Troppo morbide le marcature dentro l'area di rigore. La numero 10 realizza il quinto gol del suo campionato. Gol che mancava come detto davvero da tanto tempo. Pomigliano che continua ad attaccare. Fallonetto di Herum ai danni di Ferrario dal dischetto. Trasforma ancora Tati. Doppietta seconda in questa stagione dopo quella realizzata con il Como per la brasiliana. Diventano 6 i centri in campionato per lei. E soprattutto 3 a 1 per il Pomigliano che congela definitivamente la partita. Nella ripresa entra anche Corelli che va vicino alla realizzazione centrando in pieno l'incrocio dei pali. Il pallone che scappa via con un bel effetto ma sono solo le prove generali per un capolavoro della numero 7 che si inventa questa cosa qui. Realizzata dalla distanza il gol del 4 a 1 poi con un'ingenuità si toglie la maglia. Era già stata ammonita. Doppio giallo e rosso dunque per la numero 7 che non ci sarà nel prossimo turno di campionato. Resta comunque un gol fantastico quello realizzato dalla distanza di Corelli che cerca in qualche modo di giustificarsi con l'arbitro che però la sua decisione l'ha presa anche con il rammarico della panchina. Pomigliano che chiude in 10 ma soprattutto con 3 punti importanti sale a 17 e il Parma resta a 13. È tutto. Grazie da Gabriele Giustiniani. Alla prossima. Grazie. Grazie.